Presidente Mataluni, siamo qui a Capri per il convegno dei giovani imprenditori e il tema Centrare l'energia, qual è il suo pensiero? Stiamo vivendo dei mesi abbastanza difficili, il mio pensiero più che altro, la mia preoccupazione è questa lentezza sia da parte della comunità europea che da parte delle istituzioni del nostro paese nell'affrontare il tema perché ci sono imprese davvero in difficoltà, il tempo scorre veloce ma qui si rimanda di settimana in settimana, noi abbiamo assoluto bisogno di un price cap sul prezzo del gas, sul prezzo dell'energia elettrica perché a breve, nella fase difficile ancora non ci siamo entrati secondo me e abbiamo la necessità di un intervento immediato perché a breve le imprese vivranno momenti di enormi difficoltà, di grandissima difficoltà.